ciao bentornati su una fetta di paradiso come avete visto dai cinque secondi prima di questo video ho fatto la spesa con mio marito oggi per me è lunedì di pasquetta voi questo video probabilmente lo vedrete la settimana prossima perché c'è tutta la programmazione già in essere sul canale comunque ho sistemato parte della spesa qui sul piano lavoro in maniera tale che io possa mostrarvela in due tre tempi nel frattempo vedete anche il forno acceso perché sto cucinando il pranzo che sarà un pranzo frugale ragazze perché sono già le due e mezza quello che ho messo in forno sono delle pizzette che vi mostro subito la scatola aperta queste le abbiamo prese pochissime volte queste le quattro pizzette però mia mamma che le utilizza dice che sono molto buone quindi siccome non avevamo tantissima fame da mangiare una pizza al piatto abbiamo preso queste e poi siccome l'ho trovata in offerta ho preso queste di sfoglia che dice essere pronte in 20 minuti ovviamente poi una volta che raggiunge la temperatura il forno secondo me cuoceranno anche anche prima allora lo scontrino di questa mega spesa perché è una spesa che non facevamo all'euro spin veramente da forse un paio di mesi quindi una mega spesa abbiamo speso 173 euro quasi 174 e di solito rispetto ai nostri canoni è abbastanza però calcolate anche che abbiamo preso dei diciamo dei prodotti che non si mangiano che abbiamo visto essere in offerta prodotti novità e quindi li abbiamo presi allora come vi dicevo ho sistemato parte della spesa la restante sta ancora in quelle tre buste quindi insomma è veramente una mega spesa allora abbiamo riacquistato dopo un pochino di tempo le mozzarella e queste in busta 4 per 125 grammi ho trovato in offerta il prosciutto di parma ovviamente laddove ci sono le offerte ve lo dico anche se poi quando vedrete il video non lo so se le offerte saranno ancora in corso ho acquistato per cambiare un po tipologia di insalate l'insalata poker questa non costa tanto sono 200 grammi tutto sommato diciamo che è fattibile così come ho preso anche i funghi questi coltivati misti questi se non erro erano in offerta poi ho acquistato un cavolo rosso però l'ho preso più piccolo rispetto a quelli classici che prendo di solito perché tanto lo mangio solo io e poi mi sarebbe dispiaciuto se si sarebbe rovinato poi all'euro spin purtroppo non puoi acquistare cipolle sfuse perché le vende solamente nelle buste e quindi ho preso lo scalogno che quantomeno è un prodotto un pochino più piccolo rispetto alla bustona di cipolle poi per cucinarlo lì nella frigitrice d'aria qui ho preso le patatine novelle queste già sono sbucciate ovviamente poi le lavo e le vado a sistemare all'interno del cestello e vorrei provarle a fare con una ricetta che ho visto su pinterest vediamo un attimo come vengono poi ho preso la solita confezione qua da 250 grammi di mirtilli che sembrano dei meloni perché sono veramente enormi poi di verdure ho trovato in offerte ciliegini sono un pochino anemici quindi spero che poi maturino nel frigorifero e una melanzana che avevo qui peraltro l'avevo lasciata pure fuori me la so dimenticata fuori ma era tutta rovinata quindi ho tolto le parti ammaccate e questa la cucinerò questa sera insieme al minestrone poi in un altro svuota la spesa che adesso non ricordo se è quello della settimana scorsa cioè che per voi sarà domani ma per me da quando pubblicherò questo video sarà la settimana scorsa vi avevo mostrato il le rapidi che avevo preso al chili e oggi mio marito cioè io ho preso gli altri gusti perché c'era un gusto che non c'era la volta successiva che sono andata a fare la spesa ed è questo la sour cream e ogni ore che sarebbe la panna acida e la cipolla e siccome sono state veramente una rivelazione questi questi arachidi rivestite io ho voluto prendere questo gusto e il vasabi il chili è piccante ma non piangete il vasabi probabilmente piangerete ovvero piangerò però non fa niente che il mio marito che si è sentito escluso ha preso il bacon ovviamente questo lo mangerà solo lui io poi assaporerò le altre comunque quella chili facevano paura veramente buonissime poi ho trovato il mix di legumi questo è interessante perché ha vari tipi di legumi al suo interno poi vendeva della linea amo essere eccellente una sorta di contenitore di ceramica con all'interno il provolone questo qui con l'origano e poi c'era a fianco il provolone che veniva chiamato provolone ricarica sono stata tre ore a ridere con peraltro il commesso dell'eurospin davanti che mi guardava storto perché non riuscivo a capire che questo praticamente era quello da sostituire una volta che mangiavate quello all'interno della del coccio fino ho preso solo questa la ricarica giusto per provarlo è provolone dolce con origano ed è ideale per farlo fondere io volendo lo posso far fondere anche nella friggitrice d'aria e quindi poi mangiarlo senza il coccio poi ho preso una confezione di primo sale una confezione di pane integrale poi mio marito ha preso il barbera d'assi che questo vino rosso non l'ha mai preso prima e il negramaro come rosato quando di solito prendiamo il cerasuolo poi abbiamo preso le mini gallette mais e legumi queste sono molto buone a me piacciono sia come spuntino ma anche come sostitutivo del pane poi per cookie per cambiare perché gli stick che prendevo precedentemente a mio avviso hanno un cattivo odore però cookie li mangia comunque di buon gusto però per provare degli stick diversi ho preso questi che hanno il catarifrangente qui però c'è scritto che sono senza cereali ricchi di omega 3 e hanno questa forma attorcigliata comunque tanto alla fine sono stick che sono snack diciamo che io gli do più che altro per i denti per la masticazione quindi questi mi sono sembrati morbidi un pochino più duri rispetto agli altri però anche abbastanza soffici poi qui c'è una lattina ma in realtà ne ha prese due di best bro i poi abbiamo trovato in offerta il riso arborio questo va via come il pane poi in offerta c'era il parmigiano reggiano la confezione questa da 100 grammi ne abbiamo prese due confezioni ora sistemo queste cosine qua e vado di seconda parte della spesa così andiamo avanti ho sistemato la seconda parte della spesa e ho anche pranzato quindi possiamo riprendere da dove eravamo rimasti allora abbiamo ripreso una confezione da 18 pacchi di fazzoletti che con tutti i raffreddori che abbiamo avuto quest'anno i fazzoletti hanno fatto il fumo e abbiamo ripreso anche la lunghissima che un rotolo dura un infinità non dico che dura tre settimane un mese ma quasi e finora è la carta migliore che abbiamo trovato rispetto anche alla questa pone risparmio casa poi ho preso una serie di prodotti vegetariani burger di soia le polpette di soia che in realtà non volevo la polpetta di soia volevo la falafel di ceci ma poi mentre mi davano chiacchiera ho preso una cosa per l'altra e il burger di soia ho selezionato le scadenze un po più alla lontana per averli insomma nel frigorifero un po più di tempo poi invece per mio marito ho preso gli spiedini di suino che l'altro giorno non si potevano comprare per quanto costavano oggi era in offerta speciale quindi ne ho preso una confezione ho riacquistato il mega burger con spec e scamorza perché la precedente volta che gliel'ho cucinata aveva detto che era buono poi ho preso la cotoletta di suino già bella che è fatta e ho riacquistato la lonza qua la coppa di suino speziata questa ha detto che è molto buona io la faccio in forno l'ho fatta anche in frigidrice ad aria e in entrambi i casi è uscita veramente buona devo provarla a farla magari sfumata col del vino bianco in padella però diciamo che come carne lui ha detto che ovviamente ragazze io non mangiandola quindi prendetela con le pinze però lui ha detto che è buono poi venendo giù ha preso una confezione di pomodori secchi che io ovviamente ho visto in cassa poi io ho preso per me la preparazione di fragole senza glutine queste sono confetture molto buone e questa quella di arance amare prima trovavate solamente l'arancia amare e mirtilli adesso hanno messo anche le fragole e le albicocche quindi insomma per tutti i gusti poi ho acquistato un mezzo litro qua di albumi d'uovo ho trovato in offerta e quindi l'ho agguantato i peperoncini piccanti in olio extravergine di oliva poi sempre per mio marito ho acquistato la stracciatella e ho trovato in offerta la polpa fine la confezione questa da 2 per 230 grammi poi due litri la di latte ad alta digeribilità mi erano sfuggite le tre zucchinette di prima che vi ho fatto vedere la frutta e la verdura poi ho preso due lattine di ceci e a scendere scusate le ombre perché qui si è fatta notte cotto di tacchino con un olive che sta in offerta la siago che mio marito ha detto che formaggio è questo io gli ho detto e la siago lì c'è un gatto che vuole uscire vedete come raschia poi quando lo chiudi fuori vuole rientrare quindi quando gli ho detto e la siago subito l'ha preso poi ha preso il guda che è in offerta e la coppa stagionata che è in offerta ovviamente ribadisco queste offerte non so quanto durino poi ho riacquistato il risolatte non avevo mai preso la volta precedente l'avevo acquistato l'ho assaggiato per merenda e effettivamente era molto buono quindi ne ho riprese due confezioni poi per cambiare ho preso la macedonia di verdure che altro non sono che carotine piselli mais poi sono sprofondata in una valle di cioccolato perché ragazze ci sono ricaduta l'hanno rimesso e io l'ho dovuto ricomprare ora chi mi segue sa ecco mi è caduto aspettate spero non si sia rotto e chi mi segue sa che avevo trovato come prodotto novità un mesetto fa il cioccolato fondente con i lamponi ed era veramente una droga l'hanno rimesso e io ne ho prese quattro confezioni ragazze lo so ci sono ricaduta ma diciamo a mia discolpa è che è un 70 per cento di cioccolato quindi e poi ho preso anche questo con la granella di caffè che l'altra volta non avevo preso avevo preso quello col sale nero mi sembra col pepe nero che non mi ha esaltata più di tante sale e pepe e a sto giro ho preso il fondente ma questo se non l'avete mai provato prendetelo perché è veramente buonissimo poi qua in alto ho preso sempre per la mia mamma perché l'altra volta non le avevo trovati e avevo preso solo la tovaglia che era un 140 per 180 e lei le è piaciuta tantissimo l'altra volta invece avevo trovato il set di guanto e guanto da forno e presina questi non c'erano oggi li ho trovati set canovacci e li ho presi avendole la cucina bianca questi secondo me si sposano benissimo ho ripreso questi con la fantasia con le apette perché richiamano la tovaglia e poi dietro c'è il secondo strofinaccio che è invece tutto giallo questi sono cotone cento per cento la misura è questa 50 per 70 e allora quando li lavate vi consiglio di stirarli perché si stropicciano parecchio anche se è asciugato in asciugatrice ma anche se le asciugate sullo stendino sono molto c'è un materiale che si stropiccia parecchio quindi comunque va stirato però sono troppo carini e quindi per diciamo fare il set glielo glielo ho preso oggi che l'ho trovato poi abbiamo preso un detergente intimo alla camomilla giusto per averlo mio marito aveva finito il profumo che aveva acquistato forse un paio di mesi fa se non pure prima di natale e nei dettagli dei tester li abbiamo diciamo hanno usati tutti questo era quello che a lui piaceva di più e quindi ha preso questo però a me piaceva quello in blu non so se l'avete mai provato era veramente ottimo poi ho preso un deodorante per la lavastoviglie visto che ho ripreso ad utilizzarlo che poi sto vedendo che doppio vabbè fungo non fa niente ho ripreso la cipria compatta io utilizzo questo ormai da anni e devo dire che per il mio incarnato questa che il numero 0 mi sa 0 1 si è la migliore non è che è irritante o che mi copre insomma alcune imperfezioni mi piace io la metto sopra il fondotinta e devo dire che è un ottimo prodotto poi ho preso una busta di soffritto che vado subito a mettere nel congelatore poi per fare le mie colazioni alternative cioè alternandolo ovviamente con le mie solite classiche ho preso questi frullini quattro cereali senza zuccheri aggiunti ricco di fibre guarda quanto è carino col cuoricino nel cuoricino vabbè insomma l'ho preso perché poi saranno protagonisti anche di alcune altre ricette poi ho trovato in offerta a un prezzaccio pazzesco un chilo e mezzo di pasta le mezze penne rigate che sono queste piccine e gli spaghetti quindi li ho prese tutte e due mio marito ha riacquistato i tubetti questi di pomodoro concentrato sebbene io li avessi comprati non meno di quattro giorni fa ma lui dice che di pomodoro concentrato non se ne è abbastanza e quindi li ha riacquistati quindi adesso per il momento vi saluto vi saluto qui termino di sistemare per il momento passo e chiudo vi auguro una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video vi aspetto ciao